Innaugurazione ufficiale della centrale di Boucher dopo 37 anni di gestazione e polemiche. Cuore del controverso programma nucleare iraniano, l'impianto costruito dai russi rischia di avere ripercussioni anche nella zona. Sono preoccupato per le conseguenze della centrale nucleare di Boucher, dice questo analista. Forse ora l'Arabia Saudita o altri paesi della regione saranno impazienti di avere impianti di pari valenza strategica contro Teheran. Diversi siti in cui l'Iran porta avanti l'arricchimento dell'uranio, oggetto dal 2007 delle sanzioni dell'Occidente che teme fini militari. Teheran intanto ha fatto sapere all'Europa di essere pronta a riprendere il dialogo e a eventuali accordi bilaterali. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica torna a parlare del programma nucleare iraniano a Vienna fino al 16 settembre insieme alla questione della sicurezza del dopo Fukushima.